impariamo impariamo quante forme abbiamo qui quadrati triangoli cerchi rettangoli che trovi ovunque così ehi voi se guardate attorno troverete molti cerchi come la luna e il sole che sono in cielo le ruote dell'autobus che girano anche questa palla è un cerchio? si! impariamo impariamo quante forme così quadrati triangoli cerchi rettangoli sono dappertutto anche qui venite qui insetti se vi guardate attorno troverete tanti triangoli come la torta a fette che buona è la tenda in camping per noi tre e questo strumento musicale è un triangolo si! impariamo impariamo quante forme abbiamo qui quadrati triangoli cerchi rettangoli li trovi ovunque così ehi voi se guardate attorno troverete tantissimi quadrati come i dadi che usiamo per contare il cubo a scuola per giocare e anche questo pacco regalo si! impariamo impariamo quante forme così quadrati triangoli cerchi rettangoli sono dappertutto anche qui ehi voi se guardate attorno troverete tanti rettangoli come i sacchi a pelo dove puoi dormire i sacchi a pelo dove puoi dormire e la lavagna per studiare anche le barre di cioccolato? si è così! impariamo impariamo quante forme così quadrati triangoli cerchi rettangoli li trovi ovunque anche qui quadrati triangoli quadrati triangoli Grazie.